Ciao, sono Marta, sono la community host di Hub Milano, centro per l'innovazione e l'imprenditoria sociale. Stiamo qui questa sera con gli amici di Yalla Italia e di Bombord per concludere il merito che abbiamo dedicato alle contaminazioni culturali con un workshop per creare insieme nuovi progetti ad alto impatto culturale per la città di Milano.